Questa è un'altra challenge. Consiste nello scegliere un'affermazione o al massimo due o tre da pronunciare in loop per tre minuti consecutivi. È una challenge da fare per circa 21 giorni e serve a cambiare le tue credenze limitanti. Quindi ora prenditi un minuto per selezionare quell'affermazione che condensa in una frase tutto ciò che vorresti manifestare. Hai scelto? Fallo con attenzione. Ora che hai deciso dovrai pronunciare questa frase per i prossimi tre minuti. Puoi anche visualizzare nel mentre ma non è necessario. Non dovrai per forza affermare provando determinate sensazioni. Puoi anche farlo roboticamente. L'importante è che tu lo faccia per i prossimi tre minuti e per i prossimi 21 giorni. Ora ti lascerò questa traccia audio che ti aiuterà a tener conto del tempo. Fammi sapere poi nei commenti cosa è cambiato nella tua 3D. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.